Sono state quasi 600.000 le confezioni di medicinali, pari a un valore di oltre 5 milioni di euro, donate durante la 24esima giornata di raccolta del farmaco, promossa dal Banco Farmaceutico. Aiuteranno almeno 430.000 persone in condizione di povertà sanitaria, di cui si prendono cura 2.012 realtà assistenziali convenzionate con la Fondazione Banco Farmaceutico. All'iniziativa hanno aderito 5.689 farmacie in tutta Italia, sono stati coinvolti più di 25.000 volontari e oltre 19.000 farmacisti. Ad Alessandria e Provincia hanno aderito 55 farmacie e sono state raccolte 4.875 confezioni, pari a un valore di 40.685 euro, un dato in leggero incremento, che aiuteranno circa 5.000 ospiti di realtà assistenziali. È necessario, ricordano gli organizzatori, continuare a sostenere le realtà che si prendono cura dei bisognosi. La spesa farmaceutica a carico del Sistema Sanitario Nazionale è pari a 12 miliardi e mezzo di euro, mentre 9,9 miliardi sono pagati dalle famiglie, sia da quelle non povere, sia da quelle povere, che pagano interamente il costo dei farmaci da banco e, salvo esenzioni, il ticket. E ancora va ricordato che senza il cosiddetto terzo settore sanitario, la tenuta della sanità italiana sarebbe a rischio. Le associazioni benefiche, infatti, sono almeno un quinto del totale delle strutture sanitarie.